Archiviata la bella e importante vittoria di Martorano contro la Savignanese al culmine di un'ottima prestazione, per i sei nel tempo di pensare al prossimo impegno. All'Ancelotti è attesa la Jesina, prima del doppio turno interno. Il prossimo è il derby col Campobasso. Prima però bisogna concentrarsi sui marchigiani, che proprio una settimana fa hanno bloccato sul pari rosso-blu di Mandragora. Mister Silva dovrebbe confermare l'undici vittorioso con la Savignanese. L'anti tra i pali, l'ottimo De Chiara terzino-destro, Marino e Frabotta centrali, Barretta a sinistra. Centrocampo con Fazio, Cacic e Cristiano. In attacco sicuro romano, con ballottaggio tra Ciccone, Iabboni e Palma, che parte favorito dopo l'assist vincente a Romano. 4 per 2 maglie. Di contro ci sarà una Jesina con i nervi a fior di pelle. Mister Ciampielli dopo il Campobasso conta i danni. Sicuri assenti per squalificare l'attaccante Bubalo, il secondo portiere Anconetani e il difensore Nonni. Tutti espulsi contro il rosso-blu. Formazione quindi da inventare. David in porta. Fra Cassini, Martedì, Riccio e Pasqualini in difesa. Ceccuzzi e Magnanelli a centrocampo. Pierandrei, Jabri e Bordo in appoggio a Cameruccio. Partita scorbutica per gli Sernini. Ma una vittoria sarebbe fondamentale sia per la classifica sia per il morale. In vista di un derby che si prevede caldissimo. All'Ancelotta con fischio di inizio fissato alle ore 15, arbitra la signorina Ilaria Bianchini della sezione di Terni. Assistenti di linea Salvatore Gambino di Nocera Inferiore e Cristiano Pelosi di Ercolano.